Ok, Anna, vado dal parrucchiere. Ehi, 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 dove stai andando? Sto andando dal parrucchiere. Va bene, quando farai tardi. Ok. Salve signore, posso sedermi sulla sedia? Certo, siedi qui. Perfetto, ti piace questo taglio? Certo, sto meglio a questo taglio. Bene, grazie. Prego, prego. Arrivederci. Che te? Clac. Oh no, ho dimenticato di recuperare adesso. Vado. Oh no, ho dimenticato di recuperare adesso. Grazie a tutti